Il mondo dell'imprenditoria abruzzese piange la scomparsa di Antonio Angelucci, fondatore della OMA, azienda metalmeccanica che oggi conta 5 sedi sparse per l'Italia, con quasi 800 addetti ed un fatturato a più zeri. Angelucci, scomparso ieri all'età di 75 anni a causa di una malattia, era originario di Torre dei Passeri, in provincia di Pescara, da dove aveva iniziato la sua attività di imprenditore con la passione della vitivinicoltura. E proprio il vino era diventato il suo lavoro più amato con la creazione di un'azienda a Castiglione a Casauri, a due passi dalla casa di famiglia, azienda che da anni esporta vino oltreoceano e anche nel sollevante. Antonio Angelucci aveva fondato la OMA negli anni 60, che da azienda a conduzione familiare è poi diventata un colosso internazionale con commesse sparse per il mondo. In pochi anni la OMA è cresciuta a dismisura, arrivando ad aprire cantieri in Brasile, Egitto, Libia e Qatar, tanto per fare qualche nome. L'azienda degli Angelucci da alcuni anni ha anche legato come sponsor il suo nome alla Pescara Calcio. I figli Giovanni e Mauro, oggi al vertice della OMA, hanno avuto importanti incarichi anche in Confindustria, dove Mauro è stato presidente regionale fino allo scorso anno. Questa mattina nella chiesa della Beata Vergine Maria delle Grazie di Torre dei Passeri, l'ultimo saluto ad Antonio Angelucci. Grazie. Grazie a tutti.